Manca poco a Pastorias, 8 e 9 settembre, oggi però 30 agosto siamo a Cagliari per promuovere questo evento di festa e di cultura. Ma è anche un momento per ricordare qualcos'altro, forse un po' meno felice. Certo, noi oggi siamo qui per pubblicizzare un avvenimento importante per Forni e per la sua economia, però in questo momento di gioia non possiamo anche dimenticarci di ciò che sta succedendo nelle miniere del Sulci, se vogliamo anche ricordarci di loro e ricordare soprattutto che siamo vicini con tutto il cuore a loro. Adesso comincerà la sfilata per le vie di Cagliari, andrete a promuovere e invitare Cagliaritani e non solo, anche tanti turisti li abbiamo visti a Forni e tu sfilerai con questo costume, ce lo racconti? Sì, allora questo si chiama Brattallu ed è il costume che anticamente le donne usavano anche per i matrimoni e per sposarsi. Un costume di questo tipo ha un valore di circa 12 mila euro, per me è una grandissima emozione perché posso solo viaggiare nel tempo e immaginare come vestivano le donne anticamente. Quindi oltre a portare quest'abito porterete anche un messaggio per le vie di Cagliari, quale? Certo che vogliamo praticamente fare un viaggio nella tradizione tipica pastorale fonnese e mostrarle anche alle persone che non sanno come si viveva a Forni tanti anni fa e ciò che soprattutto si faceva.